Ciao... Vai si fanno i promenodini e chiede una foto... No! E con questi promenodini facciamo i promenodini con tutti. No! Sì, si! Titti! mettete delle pastelle, l'olio e l'aglio mettiamo una fate così un po' quando l'aglio è cotto aggiungete pomolodini io prendo questo mettete anche il sale e lo zucchero lasciate cogliere per 5 minuti poi mettete un po' di oligno sopra ecco i nostri pomolodini compiti mettete 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 mettete